E domani, giovedì 28 febbraio, alle 10.30 a Sant'Anna, il sindaco Stefano Lubrano presenterà alla stampa il nuovo assessore all'ecologia e ambiente Elena Riva e il nuovo comandante della Polizia Municipale, il dottor Guido Calzia. Parteciperà alla conferenza stampa il segretario generale, il dottor Antonino Puledda. Parliamo ancora una volta di elezioni, quelle di domenica e lunedì, che hanno offerto molti spunti da Roma ad Alghero, passando per Cagliari. Sono molteplici le implicazioni riflessi del voto nazionale. In Riviera Catalana si registra un calo notevole dei voti per la coalizione di centro-sinistra. Crescono Partito Democratico e PDL, drastico calo della sinistra radicale, mentre l'Udc è a rischio scomparsa. Come sempre quando c'è da analizzare il voto, sembra che tutti abbiano vinto, meglio nessuno abbia perso. Andando oltre la straordinaria vittoria del Movimento 5 Stelle, è evidente che a livello nazionale siamo davanti ad un sostanziale pareggio. L'apparente ingovernabilità dovrà essere superata dalle decisioni del presidente napolitano. In Sardegna Grillo e il primo partito seguono PD e PDL. Puntando i riflettori su Alghero, salta subito agli occhi un dato. Rispetto alle comunali, ultime elezioni in Riviera, il centro-sinistra ha perso 5.000 voti. L'ultimo dato utile, quello del balottaggio, vide infatti il superamento della quota 12.000 da parte di Lubrano. Mentre oggi tutti i partiti di centro-sinistra, Ingroia, Lavoratori Comunisti, PD, Centro Democratico e SEL, si fermano a 7.633 preferenze. Sommando le forze politiche presentatisi alle consultazioni, si arriva a 10.633. Dunque è sempre uno scarto notevole riguardo l'esito delle politiche. Ciò non può far riflettere. Infatti stiamo parlando di una coalizione che governa Alghero da otto mesi. E se questo primo tagliando elettorale palesa un dato così negativo, è oggettivo che gli algheresi, come rappresentato anche dal Movimento 5 Stelle, prossimi alla presentazione di una mozione di sfiducia, sono molto scontenti dell'attuale amministrazione. Una debacle che non può non far riflettere tutti i partiti che sostengono Lubrano. Da tempo si registrano fibrillazioni sempre più diffuse, ma il giudizio generale piuttosto insufficiente sull'azione governativa pare comprendere tutte le forze di maggioranza. Non se la passa certamente meglio il centro-destra, anche se rispetto alle comunali perde 3.000 voti, resta in vantaggio però in riferimento al centro-sinistra. Questo sempre sommando tutte le forze in campo. Tengono i partiti maggiori, PD e PDL, che guadagnano quasi 1.000 voti a testa, mentre perde un gran numero di voti la sinistra radicale, da quasi 5.000 preferenze a 1.500 circa. E il centro, in particolare l'Udc di Casini, che passa da 3.000 voti a soli 528. Chiara l'emorragia verso 5 Stelle, soprattutto da parte di movimenti e liste riferibili alla sinistra radicale. Cambiamo argomento. Ieri pomeriggio, nella sede della Confraternita della Misericordia di Via Giovanni XXIII, si è svolta la selezione dell'immagine e del manifesto che, come tradizione, promuoverà la Settimana Santa di Alghero. Gli elaborati, come oramai da quasi 20 anni, sono stati realizzati dagli alunni del liceo artistico Costantino. È stata Francesca Calgaro, della Quinta A, la prima classificata. Da oltre 20 anni, in occasione della Settimana Santa, il forte sodalizio tra la Confraternita della Misericordia e il liceo artistico Costantino di Alghero si ripete con puntualità e professionalità. L'immagine fotografica che promuoverà l'evento religioso è infatti curata dagli allievi del noto istituto, che, ispirandosi a soggetti e canoni estetici intrisi di simbolismi e grande spiritualità, hanno, dal 1990 a oggi, manifestato il loro senso di appartenenza ad Alghero, alla sua cultura e tradizione, competenze e capacità professionali, riscuotendo da sempre il felice apprezzamento della committenza e della cittadinanza stessa. La stesura dell'immagine fotografica, parte integrante del manifesto della Settimana Santa, si rivolge a tutte le classi del liceo. Considerata l'importanza del tema, ogni anno ampio spazio è dedicato allo studio della progettazione grafica, all'elaborazione soggettiva e alla creatività, allo scopo di rendere i ragazzi gli unici protagonisti. Gli allievi, sperimentando percorsi di ricerca su temi interdisciplinari, sviluppando le abilità di documentazione e competenze dell'informazione, promuovono così una cultura della ricerca e del prodotto, dove l'estetica, intesa come sensibilità, agisce come fondamentale elemento di relazione tra le parti. Ieri, gli elaborati dei ragazzi sono stati accuratamente esaminati e premiati da un'apposita commissione, composta dal presidente della Confraternita della Misericordia Mario Sari, dal sindaco Lubrano e dall'assessore ai servizi sociali Romina Caula. Presenti inoltre per la meta Gian Paolo Piras e Salvatore Mulas, per la scuola il dirigente scolastico e professor Antonello Cole d'Anchise e tre docenti del liceo artistico. Tutti hanno speso elogi per la delicatezza delle immagini, per la sacralità semiotica proposta, per la bellezza della superficie emotiva di tutti gli elaborati, rappresentanti non solo sacri eventi, ma soprattutto valori universali. Immagini pregnanti simboli di sofferenza e regali segni di salvezza. L'elaborato primo classificato è opera di Francesca Caigaro, aluna frequentante la classe quinta, sezione A. Per la realizzazione di quest'opera la giovane allieva si è servita del filo rosso, creando sulla stoffa una teoria di figure chiuse in un doloroso silenzio. Il filo come simbolo del dialogo del cammino ecumenico, della narrazione della memoria, traccia di una nuova comunicabilità artistica. Al secondo posto l'elaborato di Eleonora Marras, frequentante la classe quarta, sezione A, e al terzo quello di Veronica Sacco, della classe quinta A. E ieri abbiamo sentito il presidente dell'associazione, che si occupa da anni dell'organizzazione dei riti della settimana santa di Alghero, il dottor Mario Sari, che ha parlato dell'importanza di questo momento e del coinvolgimento dei giovani. Mario Sari, presidente della misericordia di Alghero, un momento importante per la vostra associazione e anche per l'istituto d'arte Costantino, che da 15 anni fornisce l'immagine che accompagna la promozione della nostra settimana santa. Sì, è vero, è una cosa importante, perché l'immagine deve essere trasmessa dalla nostra associazione a tutta la popolazione, perché riesce a comprendere tutte quelle che sono le parti importanti nel nostro passaggio nella settimana santa, perché la settimana santa è un momento bellissimo per la nostra città. Ci tiene che la nostra città dia a noi le soddisfazioni grandissime di quelle persone che arrivano dall'estero o dalle altre parti e va a moltiplicare tutte quelle che sono le gioie, ma anche i dolori del nostro Signore. E quindi per noi è molto importante. Come si sta preparando l'associazione? L'associazione è già preparata perché solitamente ogni anno facciamo le stesse cose, ma quasi le stesse cose, perché ci sono degli altri momenti importanti, che sono quelli proprio della posizione del manifesto. Importantissimo perché colpisce tanto e soprattutto è fatto da ragazzi di una scuola eccezionale, dove ha trasmesso tutte queste immagini per poter far credere agli italiani e ai cittadini di Alghero la bellezza delle nostre opere d'arte, perché sono opere d'arte, perché sono fatte da ragazzi, ma sono opere d'arte. È stato poi il dirigente scolastico dell'Iceo Artistico Costantino ad esprimere soddisfazione per il coinvolgimento che oramai da più di vent'anni la scuola d'arte con i suoi alunni ha rispetto alla Settimana Santa, un lavoro continuo ma sempre in mutamento. Professore Antonello Colledanchise, dirigente scolastico dell'Iceo Artistico Costantino, un momento bello per gli alunni della sua scuola, di soddisfazione perché vengono creati degli elaborati che vanno a rappresentare un momento molto sentito ad Alghero come quello della Settimana Santa. Sì, è uno dei momenti più sentiti anche dal liceo artistico, adesso lo chiamiamo così, ex istituto d'arte, anche se ancora abbiamo una quarta e una quinta che sono frequentati da alunni del vecchio istituto d'arte. Con la riforma abbiamo le prime tre classi che appartengono al liceo e quest'anno a questa manifestazione hanno partecipato sia all'unni dell'istituto d'arte, vecchio diciamo, vecchi corsi, sia agli alunni del nuovo liceo artistico, il che significa che la tradizione sta continuando, cioè c'è stato un passaggio dall'istituto d'arte al liceo artistico che mantiene la tradizione. Domani, giovedì 28 febbraio alle 19.30, in tutte le cattedrali delle Dieci Diocesi della Sardegna verrà celebrata contemporaneamente una veglia di preghiera per Papa Benedetto XVI. Ad Alghero la funzione si svolgerà nella cattedrale dell'Immacolata Concezione e sarà guidata dal Vescovo Mauro Maria Morfino. Alle ore 20 dello stesso giorno il Pontefice lascerà ufficialmente l'incarico affidato il 19 aprile del 2005, come comunicato nel declaratio dello scorso 11 febbraio. La decisione è stata presa durante l'ultimo incontro della conferenza episcopale Zarda tenutosi il 12 febbraio, durante il quale tutti i Vescovi hanno espresso sincera e convinta a condivisione delle ragioni che lo stesso Santo Padre ha manifestato nel darne l'annuncio. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.